Fedez chiama Damiano Dei Maneskin in diretta con i cugini di campagna. La reazione del frontman simpatico si parietto nel corso della puntata di ieri di Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez trapiantato a Sanremo per la settimana del festival. Ospiti i cugini di campagna che, fra una battuta e l'altra, hanno avuto modo interagire anche con Damiano David, frontman Dei Maneskin. Fra le due band non corre buon sangue, a causa delle ripetute critiche dei cugini nei confronti del gruppo rock, ma oggi, forse, un primo mattoncino per la pace è stato posato. Nel corso dell'intervista Fedez ha preso il telefono, e a sorpresa ha chiamato Damiano. Ciao patato, ti disturbo? Esordisce il rapper. Il cantante Dei Maneskin, un po' sorpreso, gli chiede il motivo della telefonata e Fedez risponde. Sono qui con i cugini di campagna. Grazie a tutti.